Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Faietico, come sempre tiz, che bello iniziare la settimana in vostra compagnia. Andiamo avanti con la nostra carriera allenatore, perché questo weekend non ci sono stato, ho avuto una serie di impegni, poi diciamo che volevo anche un pochino riposarmi dopo l'inizio dell'università, però ovviamente non potevo assentarmi per troppo tempo, perché questa carriera mi sta prendendo molto e tutte le volte che voglio giocarci devo per forza anche registrare, chiaramente perché faccio tutti i singoli passi di questa carriera in vostra compagnia, quindi quando mi viene voglia di giocare devo anche mettermi sotto e impostare bene l'episodio. E quindi eccoci qua di nuovo, vedete che ho messo una terza opzione per il modulo, dopo il 4-3-1-2 e il 4-3-3, voglio provare in queste partite il 4-2-3-1, che è una variante del 4-3-3 un pochino più focalizzata sul centrocampo, perché il 4-3-3 gioca molto sulle ali avanzate e su tre centrocampisti centrali, che devono fare molto lavoro, perché essendo tre centrocampisti centrali uno magari sta più fermo, ma i due mezzali devono correre moltissimo. In questo modo invece si toglie un centrocampista dei tre iniziali, ne rimangono due, quei due però devono svolgere un ruolo sicuramente diverso, devono essere più statici, più tattici, e non pensare tanto a correre eccetera, pensare di più a chiudere e a impostare da dietro la manovra. Però la ragione per cui sto provando questo modulo è più che altro per la parte più offensiva, e cioè la possibilità di mettere a lato delle due ali, cioè scusate a fianco, tra le due ali, un centrocampista offensivo, che nel nostro caso chi meglio di Gould, per ricoprire questo ruolo. In questo modo si potrebbe, diciamo, sfruttare Gould nel suo ruolo preferito, che è quello centrale, ma nello stesso tempo poter tenere in campo anche delle ali, quindi questo è un po' il mio tentativo di soluzione per poter giocare sia con Gould sia con le ali. Andiamo a scegliere le maglie e preparare la formazione, oddio, la formazione è già pronta, più che altro a guardare la formazione. Come vedete, ecco, queste qua sono le tre opzioni, le vedete chiaramente. Adesso proveremo questa qui, sperando che possa far girare al meglio i nostri ragazzi. E andiamo subito a sfidare l'Inter, sperando di vedere dei bei highlights, e soprattutto di vedere una vittoria per continuare a volare, visto che finora la stagione è stata davvero ottima. Ryan Gould, Gabriel, subito dentro di prima per il Gallo Belotti, che non sta facendo nulla fino ad ora, devo essere sincero, davvero nulla. Cioè, Paulsen penso che avrebbe fatto di meglio, penso. A qua, bravi ragazzi, a cercare di girare sta boccia. Bruno Perez, provo il tiro da lì! E non era male, anche se il portiere dell'Inter non si è neanche tuffato, probabilmente aveva già capito che sarebbe uscita questa palla, però in realtà la traiettoria era buona, è uscita di poco. Bello questo tentativo di Bruno Perez, ancora 0-0 però da noi. Gabriel, bravissimo. Gould, Gould, il tiro! Mamma mia ragazzi, alcune volte mi sembra un piccolo giovane del Barcellona questo Gould, perché ha un controllo palla e dei passaggi davvero deliziosi. Manca un po' di resistenza, ma vabbè, piccolino. Gould, ancora lui, il tiro! Rete ragazzi, stavo appena parlando bene di lui. Che gol che ha fatto questo ragazzino contro l'Inter. E siamo 1-0 in vantaggio, veramente stagione finora che sta andando a gonfie vele. Rivediamo, Gould si infila in mezzo ai giocatori dell'Inter, che non cercano realmente di rubargli la palla. Pensano che basti pressarlo, invece lui mantiene saldo il controllo palla, mantiene la sfera tra i piedi e infila la porta dell'Inter con questo sinistro a incrociare molto molto bello. 0-1, gol di Ryan Gould. Si vede proprio che il nuovo modulo ha fatto tornare Gould nella sua posizione preferita e sicuramente lui riesce a dare il meglio di sé in questo nuovo ruolo. Chiude l'Inter, però siamo negli ultimi minuti, ragazzi. Teniamo questo 1-0 che vuol dire veramente tanto. Vuol dire tanto questo 1-0. Polsen, il tiro da fuori. Attenzione, Cerny, Cerny! Parata del portiere. Occhio che stavamo per pasticciare. Alla fine facciamo anche fallo. Cerny vicino al gol. Facciamo l'ultimo cambio e mettiamo dentro i turbe che, come alcuni di voi hanno scritto nei commenti nel scorso episodio, i turbe abbiamo dato veramente tante speranze in lui e poi effettivamente ora come ora sta facendo il panchinaro. È chiaro, cioè io proverò a dargli delle chance, però diciamo che mi aspettavo una prestazione totalmente diversa da quella che ha dato fino ad ora lui in questa mia carriera. Nel frattempo vedete che l'Inter sta pasticciando in difesa e teniamo noi la palla con Polsen. Eccolo i turbe. Abbiamo appena parlato di lui. I turbe, i turbe. Il tiro! Molto bello. Parata del portiere dell'Inter. Calcio d'angolo. Sono ingolosito dalla possibilità di tirare, visto che la porta è vuota, ma preferisco far perdere del tempo e chiudere in vittoria questa partita. Battiamo anche i nero-azzurri. E devo dire che adesso il campionato si mette veramente bene. Sicuramente il nostro gioco sta migliorando molto. Nel frattempo io ho imparato anche a giocare bene a FIFA 16, perché vi ricorderete il mio discorso che ho fatto nei primi episodi. Avevo messo la difficoltà a campione perché avevo notato che facevo un po' di fatica con il nuovo FIFA 16, perché era un po' più difficile, a mio parere, giocare contro la difesa del computer a leggenda. È chiaro però che se dovessimo arrivare nei prossimi episodi primi in classifica col Torino forse è il caso di alzare la difficoltà a leggenda e magari all'inizio fare un po' di fatica, ma farsi un culo così e cercare di giocare a leggenda come ho fatto l'anno scorso, che è stata una bella prova mia e secondo me di forza comunque quella di seguire i vostri consigli. Vi ricorderete quelli che mi seguono da tanto, sanno che io per anni ho giocato a campione e ho messo a leggenda temendo che crollasse lo spettacolo invece poi ce l'avevo fatta anche a giocare a leggenda. È chiaro che questo passo, una volta che lo fai, poi non puoi più tornare indietro perché ci fai una brutta figura, quindi prima di passare a leggenda ovviamente ci penserò ancora su un attimo, però è chiaro che se dovessimo andare avanti così sarò, diciamo, in un certo senso anche obbligato a farlo. E eccoli qua, i nostri due ragazzi della primavera, c'è anche il portiere che è Marcos, Juan Marcos. Noi in questo momento direi che possiamo fare giusto così una piccola prova e allenare Martinez, che in questo momento mi sembra già quello più avanti visto che è già un 58, che non è malissimo. Bisogna un po' capire in che cosa è bravo questo ragazzo. È un C-D-C, piede sinistro, argentino. Secondo me avrà già delle buone qualità in quelli che sono i contrasti, però questa visione 37 ragazzi non si può guardare, quindi direi di allenare un po' la visione. Stimuliamo anche questi allenamenti e ole una F per Martinez, che comunque migliora già un po'. Quello che colpisce è la B e la C nei due allenamenti che ho dato a Gauld, che è salito da 75 a 76. È forse il ragazzo che sta crescendo meglio per ora nel mio progetto con il Torino. Ma ha le Belotti che prende una F, ottima la di Cerni, che migliora molto in finalizzazione, in posizione attacco, potenza tiro, tutte cose che gli serviranno molto. Infatti è già vicino al 69. Mi spiace per la F di Martinez. Forse non devo dargli l'allenamento difficile a un giocatore della primavera ed è forse questo che secondo me l'ha un po' penalizzato. Dovrò stare più attento. Ragazzi, devo dire che sono lusingato da questa proposta perché mi ha chiesto di allenare la loro nazionale il Belgio, che devo dire che è una delle nazionali, secondo me, che ha il più grande potenziale di giovani promettenti. E quindi mi fa piacere il fatto che mi sia arrivata un'offerta dalla nazionale del Belgio perché vedo che hanno capito che io ho più o meno lo stesso progetto che hanno loro, quello di far crescere i giovani e costruire una nazionale forte. Il Belgio non è mai stato così forte nel calcio e invece ultimamente ha tirato fuori tantissimi giocatori molto forti. Non lo so ancora se accettarla. Allora, ragazzi, io metto su Aspetta, però lascio a voi la possibilità nei commenti di consigliarmi se accettare o no questa proposta dal Belgio, che sicuramente è molto interessante. Io non l'ho detto in questa carriera, però di solito lo dico spesso, di solito accetto solo se mi chiamano l'Olanda o l'Italia. Poi l'anno scorso accettavo anche tipo squadre a caso come gli Stati Uniti perché magari in quel momento mi andava di accettare. Però se voi mi consigliate di allenare il Belgio, io potrei anche farci un pensierino. Per il momento metto su Aspetta. E direi che a questo punto siamo già la vigilia della partita contro Atalanta, perciò vado a fare la formazione e ci vediamo direttamente in campo. Eccoci qua ragazzi, Atalanta-Torino, siamo a Bergamo a sfidare la Dea in questa gara di Serie A e affrontiamo un Atalanta che ha un modulo molto offensivo 4-3-3. Noi rispondiamo col modulo che ormai vi ho già descritto la volta scorsa, anche se cambia in alcuni suoi elementi come Romero, Pols e Neiturbe che partono titolare in questa gara. Direi che abbiamo fatto già i soliti discorsi di introduzione alla partita. Adesso speriamo di vedere dei belli high eyes. Attenzione! Mamma mia, palo! Palo dell'Atalanta abbiamo rischiato però, stiamo concedendo troppo in questa partita alla squadra di Bergamo. Dove dire che tra l'altro in campo ci sono due grandi ex di lusso. come Baselli e Zappacosta che erano dell'Atalanta. Occhio, il tiro da fuori! Il portiere para però ancora noi! Palo! Non ci credo ragazzi, c'è stato un disastro, un casino in area. Alla fine però quello che conta è che il gol non è arrivato. C'è stato un palo, poi c'è stata una parata molto carambolesca del portiere dell'Atalanta. Comunque attenzione perché sulle fasce stiamo soffrendo molto. Zappacosta, ruba palla. Possiamo partire. Bello questo tunnel! Gauld dentro! Polsen! Palla fuori! Ci siamo mangiati un gol però, per il resto azione splendida. A partire del tunnel di Polsen per far passare la palla sulla destra dove c'era Gauld. Poi Gauld riesce a ripassare in mezzo all'area la pallone a Polsen. Era molto difficile quel passaggio, solo che poi di prima Polsen ha tirato a lato. Tutto molto bene, ancora 0-0. Devo dire che per larghi tratti del primo tempo ha dominato l'Atalanta, quindi dobbiamo migliorare su questo aspetto qui. Vediamo se riusciremo a farlo nel secondo tempo. Occhio di Stigarribia sulla destra! Stigarribia! Cross dentro! Arriva Padelli, senza problemi. Devo dire che non è stata una brillante partita la nostra. Fino ad ora ha giocato meglio l'Atalanta, devo essere sincero. Però fino ad ora ancora 0-0, siamo all'ottantesimo. Un po' secondo me poco realistico il fatto che in FIFA tutte le squadre giochino uguale, col possesso palla in difesa e quindi tutte le volte arrivano pochi gol. Comunque occhio che c'è la possibilità adesso con Bruno Perez. Nessuno si è fatto avanti sul primo palo, quindi il cross che finisce nel vuoto. Giro palla in difesa dell'Atalanta, così è stato per tutta la partita. E siamo al novantesimo. Non vedo altri sbocchi di risultato per questa gara. Infatti finisce 0-0. Penso che vada bene a entrambe le squadre. L'Atalanta si vede da come ha giocato che l'ha cercato proprio questo 0-0, anche se devo dire che ha fatto più tiri di noi. Importa comunque 2-2 il conteggio dei tiri, però in complesso diciamo che ha giocato molto meglio l'Atalanta. Noi forse eravamo ancora un po' stanchi dopo l'impresa che abbiamo fatto. Prima con la Juve, poi con l'Inter. Quindi diciamo che è la classica partita un po' per rifiatare. Il fatto sta che siamo ancora lì su. Andiamo avanti, c'è una gara con il Bologna. Penso che la simulerò, giusto per andare un pochino più veloci. Il Bologna si trova al quindicesimo posto. E niente, vado un secondo sufficio, poi dopo andiamo a preparare la formazione. Eccoci qua ragazzi, vado a simulare Torino-Bologna. Diciamo il nostro presente con il nostro recente passato, visto che il Bologna era la squadra che allenavo l'anno scorso. e inizia con un gol di Morleo questa partita. Diciamo che Morleo lo conosco bene, l'ho avuto l'anno scorso nella mia carriera. Poi arriva il gol di Martinez, 1-1. Fantastico comunque, Martinez. Gol di Gabriel, 2-1. Bravi ragazzi. Per vedere tanti gol, quest'anno su FIFA 16 bisogna simulare. No, gol di Mancosu! All'ultimo, 2-2. Cazzo, allora questo pareggio non ci voleva. Forse dovevo giocarla questa partita. Andiamo a vedere la prossima gara contro chi è. È con la Roma ragazzi, che è prima in classifica. Allora, adesso attenzione eh, perché siamo a meno 5 dalla vetta. Fa strano trovarsi lì. Tra l'altro c'è il Chievo quinto. Anche quello fa strano. E dobbiamo prepararci adesso, in questi giorni, per arrivare alla sfida contro la Roma al meglio, perché è la sfida una delle, diciamo, delle grandi sfide di questo campionato, vista come si è messa la classifica. Comunque, andiamo a vedere un po' di giocatori. questo non è male eh. Lo ingaggio, giusto per... Poi, boh, mi arrivano solo portieri però ragazzi. Cazzarola. Vediamo Tripicchio. Victor Tripicchio. Non mi sembra male. Ingaggiato. E invece Mustacchio. Aspettiamo, perché è un portiere. Vediamo Rodriguez che ha trovato. Alonso. No, vabbè, Alonso prosegue, perché comunque ha un buon... ha una buona valutazione generale. Magari cresce ancora un po'. Eccolo qua. Questo, questo ragazzi, è un buon talento. Con un potenziale tra il 72 e il 92. Questi sono i talenti da tenere assolutamente. Quindi, ingaggiamo. Joaquin Hurtado. Mi piace un sacco i nomi argentini. Questo è uno dei motivi per cui ho deciso di mandare lì il mio osservatore. Anche Pablo Ramos. Lo ingaggiamo. Oh, finalmente arrivano un po' di giovani interessanti alla corte del nostro Torino. Ottimo. Simuliamo questi allenamenti. Ho davvero fatto un allenamento full per gli attaccanti. Sono arrivate tutte A, B e C. È salito Belotti, che è diventato un 74. Poi sono cresciute un bel po' di qualità a Hurtado e Ramos, che sono i due giovani appena arrivati. Anche Gabriel è vicino a salire, perché lo sto allenando molto nelle qualità più, diciamo, da ala, visto che adesso ha preso quel ruolo. Avanziamo, ci stiamo avvicinando al big match contro la Roma. Eccoci qua in casa, però, quindi ospiteremo a Torino la Roma capolista e dovremo veramente ringhiare sul collo dei nostri avversari, far capire che siamo comunque una delle cinque protagoniste della Serie A, una delle cinque, diciamo, squadre candidate ad andare in Europa. in questo momento siamo addirittura al terzo posto, quindi, diciamo, inizio di stagione, anche se io continuo a dire inizio di stagione, oramai siamo quasi a metà stagione, siamo a dicembre, quindi, diciamo, prima metà della stagione, ottima, e quindi, ecco, meritato tutto il terzo posto. Eccoci qua, ragazzi, benvenuti alla grande sfida tra Torino e Roma. Ospitiamo la capolista della nostra Serie A per questa carriera che stiamo facendo con il Torino, è sicuramente la squadra più difficile da affrontare in questo momento la Roma, perché oltre a guidare la Serie A si presenta anche con una rosa veramente ricca, ricca di giocatori forti, comunque, vediamo che la distanza è di cinque punti in classifica ed entrano i giocatori in campo, direi che vale la pena seguire questo pre-partita, perché, allora, qua cinque gol subiti i nostri e 25 gol segnati la Roma, quindi la migliore difesa che sfida il miglior attacco ed è bello che in FIFA 16 diano queste informazioni nel pre-partita, perché danno un senso ancora più ampio e realistico. Inizia la partita, Gaud fa partire subito i turbe sulla fascia destra e sarà una grande partita, me lo sento. Belotti, Martinez, Martinez, Martinez entra in area, Martinez, il tiro al subitorete di Martinez che è partito dalla sinistra, esplode chiaramente lo stadio, perché segnare dopo due minuti contro la capolista è sicuramente una cosa che potrebbe mettere in discesa la partita e creare uno shock mentale ai giocatori della Roma. Rivediamo, si accentra, taglia tutta l'area, tiro, gol. I difensori sono rimasti a guardare, non si aspettavano che Martinez rimanesse diciamo largo per poi tirare in porta, pensavano che puntasse sul fondo. Comunque Martinez davvero giocatore strepitoso che oramai gioca praticamente quasi sempre titolare, ricordiamoci che era un giocatore che stava per essere ceduto e su cui non avrei diciamo investito molto. Occhio alla Roma, potrebbe esserci subito la risposta a palo, palo di Salah. C'è anche Totti in campo, quindi attenzione al capitano della Roma che comunque è sempre pericolosissimo nonostante gli anni. Acqua tiene in campo la palla, Acqua da ragazzi è stata veramente una bellissima sorpresa. Poi Gaud si infila bene in mezzo, Gaud! Rigore. Ebbè sì, lo so che è piccolino, dà fastidio, però se gli tieni la maglia e lo falci così, no beh, falciato no, però gli ha toccato il piede, è stato furbo Rudiger, solo che l'arbitro l'ha visto e concede il calcio di rigore. Che che lo tira? Lo tira a Baselli che ha 75. Baselli, va lui, rete! Rigore segnato, 2 a 0, stiamo battendo la capolista con due gol nel nostro stadio e il pubblico è impazzito letteralmente con questa rete che, devo dire, stavolta ha rigore calciato molto bene da Baselli, preciso, Cesni è rimasto fermo immobile e palla in rete. 2 a 0, Martinez e Baselli, ottima prestazione la nostra quest'oggi, molto concentrati, bel gioco, devo dire, stiamo migliorando sempre di più. Cross dentro, ah, mamma mia che parata Padelli, ma non fa passare nulla questo portiere, è strepitoso. Calcio d'angolo, stiamo soffrendo un po', però è normale, Roma vuole tirare fuori l'orgoglio adesso e qua non è neanche calcio d'angolo, ripartiremo da Padelli. Occhio, occhio, occhio alla Roma! Rete. è arrivato al novantesimo, ma è arrivato il gol della Roma e segna proprio Ezekiel Ponce, numero 97. Ora la Roma ci crede con questo gol al novantesimo, però penso che non farà in tempo a segnare un altro gol. Teniamo un po' il possesso perché è arrivato veramente nei minuti di recupero, quindi stiamo aspettando solo il fischio finale per mantenere questa vittoria che è importantissima. Eccolo qua, il fischio finale! Ci portiamo a casa una vittoria anche con la Roma che era prima in classifica, davvero il nostro Torino sta volando e il migliore in campo sembra essere sempre o quasi Padelli qua vediamo sembra essere dato Martinez no vedete Padelli è quasi sempre Padelli migliore in campo perché devo dire fa un sacco di parate eccezionali e mi tiene sempre la porta bella sicura tranne questo gol al novantesimo che è arrivato su una distrazione difensiva per il resto devo dire siamo sempre attenti sempre sul pezzo abbiamo superato la Lazio siamo a meno due punti dalla vetta dove c'è sempre la Roma che era in fuga ma l'abbiamo fermata noi arriva anche una richiesta dal Portogallo è chiaro siamo secondi in classifica quindi iniziano diciamo a farci la corte anche le nazionali più importanti d'Europa detto questo ragazzi l'episodio è stato molto bello siamo veramente messi molto bene anche la squadra che abbiamo costruito mi piace molto adesso la questione sarà le questioni sono due la prima come avevo già detto durante l'episodio aspetto un vostro consiglio se accettare o no l'offerta della nazionale il secondo punto è che se nel prossimo episodio vedrò ancora che la situazione in classifica va così bene probabilmente metterò la difficoltà a leggenda questo non perché vedere il Torino secondo non sia realistico perché per anni vi ricorderete qualche anno fa che per anni l'Udinese era sempre terza o quarta in classifica e non è che avesse una squadra forte come l'Inter in Milano Juve Napoli eccetera quindi non è che conta tanto quello se una squadra è solida e quell'anno gioca bene può arrivare anche in alto come è successo all'Udinese qualche anno fa per dirne una non è tanto quindi una questione di classifica è più che altro una questione che mi accorgo che quando segno non la sento veramente tipo del tutto sudata del tutto sudato il gol e del tutto sudata la vittoria non so se mi capite cioè alcune volte mi sembra di giocare sì mi impegno però vinco vinco spesso con le squadre anche più forti e non la sento spesso una vittoria sudata mi è capitato con la Juve nel derby ma per esempio qua con la Roma non è successo quindi proverò ad alzare la difficoltà a leggenda nel prossimo episodio ci pensano ancora su ma penso che lo farò perciò direi che ho detto tutto in questo episodio spero che vi siete divertiti mettete un bel mi piace e buon inizio di settimana a tutti ci vediamo presto